Ciao! Ciao! Tagliere! Buon esterno! Vai ragazzi, state via! Stai via! Bistola posturata, oggi capite da dove tu puoi? Ci vedo. Buon ritorno! Buon ritorno! Grazie! 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 Buon ritorno! Buon ritorno! Buon ritorno! Buon ritorno! Buon ritorno! Che ci vuoi dire? Abbiamo fatto un po'. Grazie. Siamo crescenti, siamo crescenti. Va bene. Siamo crescenti. Siamo crescenti. 5 a 1? Per l'FCL. Siamo forti. Ma lei adesso è l'allenatore? No, no. Siamo un semplice ammiratore, un tifoso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, dai, squadra forte, davvero forte. Grazie. Complimenti, Presidente. Domanda difficile, no? Prima uscita ufficiale della squadra? Prima vittoria? Sì. Come si è comportata la squadra? No, sì. No, meglio così perché sono... Eh, bene. Il risultato positivo, una bella squadra. Il finale non è piaciuto. Sì, al finale abbiamo parlato un po', ma quando si vince di sette reti è una cosa normale. Ricordiamo il risultato? 10 a 6, per esempio. Cosa era quella rissa in campo che è successo nel primo tempo? Contanto che uno di noi si è stato munito per aver parlato un po' troppo quando prima gli avversari avevano detto delle cose. Io come capitano sono fatto capire all'arbitro che non funziona così e basta. Presidente, come ha visto la squadra? Ah, sono contenta perché è un risultato positivo. Il primo, speriamo che non lo segui. E poi soprattutto abbiamo fatto tendenza. Non so se avete notato quanta gente c'è quest'anno. L'anno scorso eravamo solo noi a avere il seguito. Quest'anno pare che siamo stati imitati e abbiamo visto tante donne da questa parte. Però siamo sempre due più numerosi. Sì, sempre noi lo siamo. A chi dedichiamo questa vittoria? Io penso che sia quasi scontato perché penso che lo sentiamo tutti alla stessa maniera. Questa è la vittoria per Saddam, assolutamente. Grazie. Prego. Lo spirito con cui avete affrontato questa prima partita di torneo. Ma dove va? Sto qualche parte su Instagram? Sul nostro forum. Dove? Sul nostro forum. Che forum è? FasanCult.org C'è 200 cose che avete dato, ma non volevo fare i video. Allora, come consigli di questa sconfitta con la nostra squadra? Meglio non parlarne perché siamo presi tantissimi gol. Comunque eravamo rimaneciati, eravamo contatti. Dobbiamo essere un giocatore che neanche doveva giocare stasera, perché è stato infortunato. Andremo io la prossima volta, speriamo. Se non siamo cinque contatti. Hai notato che la nostra squadra è molto compatta oppure ci sono dei singoli? E' una bella squadra, gioca bene e secondo me può arrivare lontano se continuano a sconfitta. Grazie.